Scutti nella trasferta sulla carta non proibitiva del Tommolini Martinsicuro che invece si rivelerà avversario piostico del previsto, l'affondo di Delgado. Fuori causa cannella la testa di David Toro a porta quasi sguarnita che occasione cestinata dall'ex giocatore del Fortis Altamura ma è solo questione di secondi per la rete che sblocca l'incontro. Miciche dal corner Di Lallo non fallisce, Chieti in vantaggio. Primo gol in campionato per il centrale difensivo che affianca di Ciccio, squalificato Ricci, Ronzino a destra. Stefano Miciche per il 2-0 vuole mettere il lucchetto al match già nel primo tempo il Chieti. Doppio vantaggio Martinsicuro che pare alle corde ma nero-verdi che si divorano due volte lo 0-3 con Miciche prima con Farindolini pochi istanti dopo imbeccato da Francis Delgado e allora l'episodio che può far svoltare la partita. Palla persa in costruzione della manovra. Ciutti che affonda di Lallo che lo ferma irregolarmente. Doppio giallo per lui e possibilità dal dischetto per l'undici di Guido Di Fabio e proprio Gregorio Ciutti a realizzare. Deimezzato lo svantaggio un tempo intero in superiorità numerica ma è il Chieti a mancare il 3-1. Cannella a rimediare prima su Delgado poi su Toro poi Farindolini che nella ripresa arretra sulla linea dei difensori spostato al centro Scutti il servizio per Delgado sfortunato qui centra la traversa. Ancora lo spagnolo in percussione scatenato nel secondo tempo. Conclusione bloccata da Matteo Cannella che si riscatta dopo l'errore col Nereto il Chieti. Passa 2-1 a Martinsicuro. Prove di fuga per Alessandro Lucarelli. Non era facile giocare contro il Chieti la prima della classe la squadra che secondo tutti è la favorita del campionato. Avete dato davvero tutto nella partita di oggi? Sì noi da un po' di tempo che diamo tutto non solo nella partita di oggi ma anche nelle altre partite. Dopo una vita di calcio dove sia da calciatore allenatore ho raggiunto dei traguardi importanti. Non pensavo che quest'anno nonostante tante sconfitte riesca a provare delle emozioni molto forti perché questi ragazzi quando li vedi andare in campo e dare tutto quello che hanno di fronte agli avversari molto più forti di te rimani proprio sconcertato e le emozioni sono talmente tante che non rimane solo che rimane solo il fatto di potergli fare tanti complimenti e essere orgoglioso di allenare un gruppo così. Lucarelli allora tre punti sul Sambucetto. Prove di fuga? Ma diciamo che oggi era importante vincere perché è vero come dicevano anche i dirigenti del Martinsicuro loro hanno sempre dato molto fastidio alle squadre che sono vede qua. Sinceramente oggi noi invece la partita l'abbiamo approcciata bene e ce la siamo complicata con l'espulsione perché effettivamente Martinsicuro oggi non è riuscito a fare quello che di solito ha fatto con altre squadre e questo significa che i giocatori, la squadra ha capito che anche queste partite con una falsa ultima in classifica come Martinsicuro devono essere approcciate in un certo modo se vuoi ottenere dei risultati e vuoi raggiungere l'obiettivo. Mi dà tanta fiducia questa partita soprattutto ai ragazzi perché poi nel secondo tempo in dieci praticamente da fine primo tempo non abbiamo sofferto praticamente mai certo mi sembra un paio di cross subiti dalla squadra da parte del Martinsicuro per il resto abbiamo preso una traversa abbiamo fatto altre occasioni e questa è una partita senato importante non per la classifica ma più per la testa